Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci arrivati con un nuovo video qui da Yardforex, io sono schenato Arduino e in questo video parleremo di Inside Fake Out, vediamo alcuni esempi interessanti di Inside Fake Out che si sono venute a creare. Allora, parto dal presupposto che l'Inside Fake Out migliore per me è l'Inside Fake Out che ha la forma da Pin Bar e che ovviamente va a fare quello che una Pin Bar fa, oltre all'Inside Fake Out, quindi le caratteristiche che deve avere una Pin Bar più le caratteristiche che deve avere un Inside Fake Out. In linea di massima se andiamo a unire il tutto, quindi oltre ad avere una rottura falsa di una o più Inside Bar, quindi Inside Fake Out e quindi anche Outside Bar, devo avere le caratteristiche, quindi una falsa rottura di massimi minimi precedenti, di livelli importanti eccetera, cioè le caratteristiche che ha la Pinocchio Bar, che ricordo a tutti, si chiama Pinocchio Bar proprio per il fatto che Pinocchio diceva le bugie e gli si allungava il naso e stessa cosa ovviamente quello che succede poi nel mercato. Allora prendo il cross Euro Yen che per qualsiasi Forex Trader penso sia un cross abbastanza comune e conosciuto, ecco qui, allora guardate, nell'ultimo periodo si sono venute a creare alcune, direi, Inside Fake Out che sono anche Pinbar e che voglio mostrarvi. Allora prendo la pennetta, andatevi un attimo, eccola qui. Allora la prima è questa qui, allora che cosa succede? Succede che nel momento in cui il mercato aveva creato un massimo importante, tra l'altro questo che vedete qui segnato in rosso è un livello mensile addirittura, weekly mensile, quindi livello molto molto importante di offerta, il prezzo poi è andato a ribasso e da qui ha formato una base per poi ripartire andando verso l'alto creando il primo movimento non è una vera e propria Pinbar e non è neanche un Inside Fake Out per poi andare invece a creare una bellissima Inside Fake Out Pinbar, questa è un Inside Fake Out Pinbar un po' evoluta perché? Perché se guardate quella precedente, vedete, aveva questa situazione, in realtà se noi prendiamo questa barra, vedete, questa è domenica, quindi voi dovete prendere questa come una barra unica, però se andiamo a notare bene la situazione che è successo, è successo che qui ha rotto di pochissimo il livello, in realtà poi il fake out vero della Outside Inside è stato proprio questo qui, quindi mercato che forma una Inside Fake Out Pinbar, quindi questa è la, bisogna ovviamente cercare di interpretare quello che ci dicono i grafici e il mercato, ovviamente a nostro favore, si è venuta a creare una bellissima impostazione per ogni Presection Trader che alla rottura di questo minimo, ricordo a tutti che la Pinbar viene convalidata al breakout del minimo, ha portato un movimento ribassista poi che è andato a ritestare questa zona, come potete vedere, no? Poi un'altra nel momento in cui ha fatto questo movimento di swing, quindi ha fatto un movimento di swing, chiamiamolo così, ribassista, cioè swing high, swing low, ha creato un nuovo swing che poi viene confermato con la rottura proprio qui e questo swing che si viene a creare è una ennesima Pinbar Inside Fake Out interessante che è andata a rivedere la zona di vendita, eccola qua, no? Questa zona qua. E ha fatto fake out, questa è una inside bar, questa è totalmente inside, di quella precedente, quindi è andato a rompere il livello e ha chiuso sotto, formando anche una Pinbar Inside Fake Out. Poi il giorno dopo c'è stata una inside e il giorno dopo ancora c'è stato il breakout per poi vedere volatilità al ribasso. Allora, come le possiamo tradare? Che cosa fare? Ovviamente la prima cosa da dire è che la price action si deve basare sempre su un'analisi weekly, quindi settimanale su dei frame weekly, poi mensile se si vuole andare anche su il più grande, quindi cercare di vedere una view più importante ma basta anche già il weekly e poi il daily ci permette di avere i trigger per entrare. Quindi la cosa necessaria qui è quella di andare a osservare quello che è avvenuto e la successiva mattina si può andare a vedere ovviamente se ha già rotto o se sta per rompere e quindi il classico trade che si può andare a creare nel momento in cui il mercato rompe i minimi, quindi sell stop, stop loss. Ovviamente qui poi i target possono essere valutati con le sessioni di volatilità o comunque, come facciamo spesso, o comunque sul livello precedente importante, già quello può essere un punto importante nel quale andare a cercare ovviamente una presa di profitto del trade. Si può poi valutare di andare anche su grafici a 4 o 6 ore che possono essere interessanti per valutare una dinamica di conferma del trade in atto, quindi 4 ore e 6 ore sono secondo me dei time frame molto interessanti, io sto osservando da un po' di tempo anche il 6 ore che è sicuramente un time frame grande che può aiutare a avere delle conferme successive a un bel trigger sul daily e quindi eccolo qui, molto interessante, livello poi toccato e questo è un po' il modo. Poi abbiamo un'altra, questa è molto interessante perché? Perché dopo la inside fake out pin bar che sta qui, che vedete qui, abbiamo una inside, questa poi è una domenica e quindi abbiamo un inside e poi viene rotto, quindi il fatto che ci produce un inside si può andare a valutare ovviamente una vendita quando il mercato scende sotto qui o comunque attendere che scenda qui, lo stop però senza doverlo mettere qua sopra si può tranquillamente utilizzare l'inside, quindi si può vendere alla rottura della pin e si può andare a avere uno stop molto più piccolo, quindi tutta questa qua ce la si risparmia e la si butta nel rendimento e quindi questa cosa qua è sicuramente interessante, come potete vedere questo è un trade che rispetto a questo che ha pagato un po' meno, questo paga di più, non tutti i trade pagano 1 a 3 ragazzi, non tutti i trade pagano 1 a 5, non tutti i trade pagano 1 a 2, ok? E non è detto per forza che noi dobbiamo farli tutti, però dobbiamo anche da commercianti sapere che alcuna merce avrà più margine e altra merce avrà meno margine, ok? In questo caso sicuramente è molto interessante il movimento che c'è stato e che ha portato proprio un sell off assoluto dei prezzi, quindi in questo caso nel momento in cui dopo un inside fake out pin bar si viene a creare una inside o più, si può volutare di avere lo stop quindi al di sopra del massimo o più alto del cluster inside. Ma guardate per finire vi faccio vedere anche il dollaro yen degli ultimi giorni che guardate un po' come è successo, inside fake out bellissima, pin bar su livello di vendita molto importante, questa era un'area che aveva mostrato in effetti vendita e eccolo qua, questa è una inside fake out pin bar, questi sono i livelli vedete di rottura, quindi livello di pin bar di rottura dell'inside, dell'outside e poi rottura dell'outside al ribasso. Movimento estremo, assolutamente estremo, spintissimo che potrebbe tranquillamente o già in giornata arrivare su questa zona. Questa è un'altra inside fake out assolutamente interessante a livello proprio di, graficamente parlando, quello che è avvenuto tra compratori e venditori, quello che è stata la dinamica di prezzo è sicuramente affidabile. Bene, per oggi è tutto, spero di avervi chiarito ancora un'altra volta le idee per quanto riguarda quello che è la price action, soprattutto per quello che riguarda la price action su pin bar e self fake out, ma ci saranno ovviamente ulteriori video, sempre anche controlando i grafici e quello che è successo, così da farvi esempi anche più attuali di quello che avviene. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto ovviamente prima di lasciarvi completamente, vi ricordo di andare sul mi piace, sul pollicione e cliccare mi piace sul video. Se non vi siete ancora iscritti al canale vi chiedo di iscrivervi ovviamente se volete seguire i nostri video didattici sulla price action. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti!